Eccoci qua, dallo store di Collegno, Maure Grazia e Tyson. Visto che oggi parliamo di a spasso con fido, ecco come noi andiamo a spasso con fido. Vuoi portarlo in giro? No? Lo portiamo noi? Vai, portalo te. Tyson, andiamo! Visto che i proprietari hanno i problemi che i cani tirano al guinzaglio, noi abbiamo trovato un metodo dove il cane cammina tranquillo. Vai, 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 vai tranquillo. E noi andiamo in vacanza così, a spasso così. In questo modo abbiamo risolto il cane che tira al guinzaglio oggi. Come vedete Tyson è molto tranquillo, cammina tranquillo. Si rilassa, perché Tyson si sta rilassando. Eccolo qua, adesso è ritornato dal suo padrone. Adesso facciamo scendere Tyson dalla sua carrozza. Eccolo qua! Finalmente in libertà! Eccolo lì. E Tyson? Preferisce le sue classiche quattro zampe. Si, preferisce sicuramente le sue classiche quattro zampe. Però, così ci siamo divertiti un po'. Tyson, vieni! Eccolo qua! In tutto il suo splendore, Tyson. Ti sei divertito? Ti sei divertito, Tyson? Eccolo qua! Saluto a tutti! Eccoci qua! Da collegno con le novità dei trasporti. Ta, che stai guardando. Eccolo qua! Eccolo qua! Grazie.